Dici due? Sì, ma si può contrastare con la tropina? Sì, ok, chiaro, chiaro, ehi bella gente, sono tutto rotto e me ne vado a casa, ci vediamo domani. D'accordo, grazie tante dell'aiuto Erla. Ciao Ray, ah, di nuovo nei guai eh. Solo di passaggio spero. Eh sì, anch'io. Come sta tua moglie Erla? Ma non troppo bene, grazie del pensiero, però in gran parte è colpa sua, fumare quelle fottutissime sigarette, un cazzo di pacchetto al giorno per 40 anni, e poi non vuole neanche sentire parlare di chemio? Ffff, è così, alla fine non paghi il prezzo, tu non fumi, vero Ray? No. Già, probabilmente non hai sbagliato, ci vediamo. wei, ov values Ну. pui, vii, 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 vii. Grazie a tutti.